La cronoprologo del Giro d'Italia Under 23 La cronoprologo ha incoronato Edoardo Affini, il talentuoso portacolori del Seg Racing Academy Ha approfittato dell'ingenuità dell'australiano Morey Primo all'arrivo di piazza Safi ma poi penalizzato per aver invertito l'ordine di partenza con Calaig E oggi via alla prima tappa in linea con la Riccione Forlì Vediamo Edoardo Affini della Seg Racing Academy vince il cronoprologo La prima tappa di questo Giro d'Italia Under 23 è nel 2018 4 chilometri e 400 metri in meno di 5 minuti Una guerrita concorrenza 157 erano i concorrenti alla partenza Ha meritato qualche secondo per l'ufficialità Ci spiega lui stesso perché poi la vittoria La prima in due anni in questa categoria Complimenti a lui La prima vittoria in due anni sono felicissimo La prima vittoria a questo livello E veramente sono al settimo cielo Poi vincendola un po' così Ne ho mantenuto un po' sulle spine Secondo però forse c'è stato un problema Magari sei primo Adesso c'è l'ufficialità Sono felicissimo Felicissimo Colui che sarebbe arrivato prima Non avrebbe però rispettato i orari di partenza Da qui la giusta penalizzazione Questo non toglie niente dal tuo successo No io la prima cosa che ho detto Quando mi è arrivata questa voce Ho detto Se voglio una vittoria onesta Se è giusto che la vittoria sia mia Sono felicissimo ma Dovranno verificare perché non volevo Che ci fossero problemi Quindi se se la meritava lui Sarei stato felice di essere stato battuto Perché io ho dato il massimo Non potevo dare di più Quindi così sono felicissimo Si è chiusa nel breve volgere di appena tre mesi L'esperienza di Gianmarco Pozzecco Alla guida della Fortitudo Bologna Il club Felsinio ha infatti comunicato Di aver raggiunto un accordo per la rescissione Consensuale del rimanente anno di contratto Che legava il coach alla Sodalizio Bianco Blu Due gli allenatori al momento in pole position Per la successione con Antimo Martino Pronto eventualmente a liberarsi Dalla panchina della Piero Manetti Ravenna O anche Marco Ramondino Timoniere di quella novi più casale Recente giustiziera proprio dell'Aquila Nella semifinale playoff Appena andata in archivio E intanto il basket Ravenna Ha scelto di ripartire dal general manager Julio Trovato L'ex virtussino avrà come compito principale Quello di riorganizzare la società Per poi concentrarsi anche sulla guida tecnica E la nuova squadra Un roster che dovrà essere dinamico E far divertire i tanti tifosi Così come indicato anche dal presidente Vianello Vediamo Julio Trovato Il nuovo general manager dell'Ora Siravenna Il dirigente raduce da due stagioni passate con la Virtus Bologna Con cui ha centrato una promozione in SRA1 Ed una salvezza lo scorso anno Il dirigente è stato presentato dal presidente Vianello Noi abbiamo pensato prima di tutto Prima della squadra Di riordinare un po' quella che è la società Non c'è parso vero Ma siamo riusciti a trovare un direttore generale Di qualità superiore E ne siamo ben felici Oltre ad una crescita societaria Trovato avrà subito due nodi da sciogliere Il futuro di Antimo Martino E il del main sponsor Sono felicissimo di iniziare questa nuova esperienza La persona che sicuramente desidero ringraziare è Giorgio Bottaro Perché con lui abbiamo un rapporto di vecchia data Ed è stata la prima persona che ho sentito E ho avuto il piacere di fare il primo incontro col presidente Che è stato insieme a Giorgio Il coach è a contratto Tra l'altro uno dei primi problemi che dovrò affrontare Se il problema non lo vogliamo definire Noi siamo molto contenti del nostro coach Se le sue intenzioni sono di proseguire la sua carriera Verso altri lidi Saremmo ben contenti di accompagnarlo E' altrettanto evidente che queste cose qua Se noi abbiamo una macchina preziosa E' giusto che ce la facciamo pagare La seconda giornata di gare della Coppa Campioni di Baseball E' andata in archivio con una doppia sconfitta Per Rimini e San Marino Fatale per i pirati l'incrocio contro i tedeschi Dell'Aidenheim A segno sul 3-1 nella sfida di Rotterdam Cade anche San Marino nel derby contro Bologna Una fortitudo che si conferma ancora una volta implacabile E chiude senza troppi affanni sul 12-4 Titani che adesso scenderanno in campo contro il Draci Brno Prima di affrontare gli spareggi salvezza Mentre Rimini si giocherà l'accesso alle semifinali contro Amsterdam Parliamo anche di automobilismo Ospite d'onore della prima tappa del campionato italiano autocross Terre di Romagna E' stato Davide Valsecchi Con la sua Nissan, l'ex campione di GP2 Nonché commentatore TV E' salito sul secondo gradino del podio Nella categoria Super Buggy In servizio Davide, incredibile Neanche a farlo apposta Una gara fantastica Una tua determinazione Pronti via, subito primo posto Sembrava tutto scritto Invece era vero? Era vero ma ho perso Bellissimo No, no, veramente bellissimo E ti ringrazio perché ero dentro E sentivo Vassecchi in testa Me l'hai tirata perché poi ho fatto secondo No, molto bello Bravo Gallotta che è stato furbo A gestire le traiettorie alla prima curva Però dai, spettacolo assoluto Per il fatto che ero un po' bagliata Un po' asciuta E' il bello dell'autocross Oggi divertentissimo Devo dire che sicuramente Beh, abituato al grande palcoscenico Tutto luci e stelle A quel punto Beh, devo dire che Che cosa a caldo ti fa pensare Questa esperienza dell'autocross? Che bisogna Darsi da fare E bisogna avere tanto coraggio E tanto cuore E bisogna E' veramente E' un po' uno sport animalesco Dove devi buttarti Avere coraggio E essere un po' furbo No, bellissimo E poi sul finale Avevo anche preso ritmo Dico Ero lì Mi sono giocato la vittoria Oggi è saltante Poi bella la pista Grazie al pubblico Dai, oggi è stato divertente A te si sentivo Bravo anche a te Passiamo a vedere un po' Quello che è scritto Anche sui quotidiani In edicola Ovviamente A tema sportivo Ci dedichiamo Al Corriere di Romagna Che rivolge Le sue attenzioni Su quanto accaduto ieri Al Tribunale di Forlì Cesena in missione Per avere un futuro Ieri l'udienza In Tribunale Per la società bianconera Filtra una rinnovata fiducia Aspettando però L'esito Del parere appunto Dell'Agenzia Delle Entrate Si parla di tennis Invece Sul resto del Carlino Marco Puoi farcela Alle 13 La semifinale Al Roland Garot Contro Team Intanto Quattro grandi Del passato Spingono Cecchinato Per Vilander Querten Safin E Medvede Il match È apertissimo E al momento Lo è effettivamente Sta vincendo Team Per un 7 a 0 Nella secondo Siamo Su 4 pari Ma torniamo a dedicarci Al Cesena Lo facciamo Ascoltando L'opinione Di Luciano Poggi Tifosi del Cesena Non allarmatevi Non c'è nessun pericolo Anche perché il Tribunale Non ha dato una risposta Ma Ha fatto capire Che il parere È sì Quindi State tranquilli Forse Ci si deve Eventualmente Agitare Per i tempi Che sono stretti E per La firma Che deve arrivare Dall'Agenzia delle Entrate Perché in sostanza Cos'è accaduto Il Cesena Si è presentato Con L'accettazione Da parte di tutti i creditori E ci sono fatte Naturalmente Dall'Agenzia delle Entrate Che hanno detto sì Al piano Di Rientro E quindi Il Tribunale Non poteva Far altro che omologare Ma non può Dire Si può procedere Fino a che Non arriva La firma Che dica sì Alla Proposta Di piano Di rientro Del Debito Con L'erario E allora Non ci si deve Assolutamente Preoccupare Solo Come dicevo Si può Eventualmente Rimanere Leggermente Agitati Per quel che Riguarda i tempi Perché Perché Ci sono Trenta giorni Prima che Il Tribunale Poi Dia L'effettiva Omologa E serve Quella Alla Lega D.B. Per l'iscrizione Al campionato Ma Per ora Io direi Appunto Che si può Dormire Tranquillamente È tutto Allora Per quanto riguarda Questa edizione Di TR24 Sport Potete comunque Rivedere i servizi Andati in onda Cliccando Sulla portale TR24.it Grazie Per la cortesa Attenzione Arrivederci Per la cortesa Per la cortesa La cortesa Attenzione Per la cortesa